Anche in allenamento, anche in partita vogliamo vincere, io di prima perché non mi piace di perdere, a me di perdere non ci sta in calcio per me. Poi col Parma abbiamo vinto, con Catania potevamo vincere perché abbiamo avuto le occasioni di gol, un gol di Rivas che è stato un traversa, poi ci sono stati momenti decisivi quando potevamo vincere questa partita, ma adesso pensiamo a Cesena, vogliamo anche vincere perché per noi è importante. Ci siamo i giocatori che vanno veloci, Gezza, Lucek, Le Palvarez, Rivas, anche io, poi siamo a un po' di spazi, possiamo fruttare meglio come è stato a Parma. Io voglio giocare per noi stessi, per la squadra, per la città, per i tifosi, che a noi è importante. Ogni partita ci mancava qualcosa di più, un po' di fortuna, vedi, con Catania, vedi che mancava pochissimo. Quest'anno è stato così, ogni partita è molto importante, ma ci sono, so che ci sono, c'è Barilecce, che è un derby. Lo so che è particolare, è un ambiente particolare, è una partita, uno dei più importanti dell'anno. Ma anche ogni partita, perché giochiamo con la Sampdoria, Palermo, Roma, Bologna, ci sono di grandi partite.